Gallarate rafforza i legami con la Cina. Nella mattinata di oggi una delegazione internazionale proveniente dalla grande città di Anyang, oltre 6 milioni di abitanti, è stata accolta dal sindaco Andrea Cassani a Palazzo Borghi. Una visita organizzata in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione nell'ambito di uno scambio culturale che promuove il dialogo e la conoscenza reciproca e che coinvolge anche l'Istituto Tecnico Superiore Ponti. La città di Anyang si basa sull'industria ed è uno dei più importanti poli logistici cinesi, ha sottolineato il sindaco Cassani, che vede nell'incontro un'opportunità per aprire porte a futuri scambi e collaborazioni.